Io vedo le cose perché cambino i miei gusti, ascolto la musica per sentire la musica che non conosco, non la musica che conosco, voglio andare a scoprire delle cose nuove, diverse, io sono in evoluzione, se tu mi tieni all'interno di un algoritmo che decide sempre che io devo essere quello perché tu gli hai detto questo mi piace e stai lì, che evoluzione hai di te stesso?